Si continua a fare i bilanci in Marocco di vite umane. La terra continua a tremare dopo il sisma che ha avuto luogo alle 23.11 locali di venerdì 8 settembre con epicentro localizzato a sud ovest di Marrakesh. Oltre 2.122 morti, secondo l'ultimo bilancio, circa 2.400 feriti gravi. Ma sono oltre 300.000 le persone che hanno bisogno di aiuto. La cosa che mi rende ancora orgogliosa della mia appartenenza al Marocco è che i miei concittadini marocchini che hanno fatto una catena umana di solidarietà. Ognuno in base a quello che ha in tasca. Da Tangere fino all'ultima città del deserto del Sahara, tra l'Ayun, Dakhna, tutti quanti. Che raccolta di soldi, che raccolta di vivere, che raccolta di indumenti, che raccolta di tende per la gente che passa la notte fuori casa, a modo di dire, perché le case non ci mi sono più. E' partita la gara della solidarietà anche nel nostro paese. Le squadre coordinate invece già sul campo dal ministro dell'Interno, l'Aftit, provengono da Spagna, Regno Unito, Emirati Arabi e Qatar. Rito ai miei concittadini residenti qui, anche sul livello della regione, della provincia di Pescara, e a chiunque vuole dare una mano, i sciacali sono dovunque, trovano il momento per addentrarsi. Di conseguenza c'è. Questo IBAN governativo rivolto solo e soltanto ai terremotati. Chi vuole dare una mano, un aiuto economico, benvenga. Per quello che riguarda il resto, i marocchini sono impegnati e hanno fatto vedere che sono bravi in un momento di disgrazie. Quando dai la pace vuol dire, la pace al tuo prossimo, chiunque esso sia, vuol dire che sei disponibile per aiutare, per proteggerlo, per venire incontro, non hai niente da offrire, un sorriso, una carezza, un abbraccio, un sentire, un ascolto empatico. E salam. E salam sia per tutti quanti noi, perché noi abbiamo bisogno di pace. In tutte le sue sfaccettature, in tutti i suoi modi. Non so, io sto adesso, vedi, dal mio stato d'animo che veramente sto tremando, perdo le parole, perdo tutta la connessione anche del momento, luogo e tempo. Sono, fisicamente sono qui, ma psicologicamente sono lì.